ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono sempre anna e come ogni martedì ogni sabato sono qua con voi con un nuovo video quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e colgo l'occasione che ieri era il 27 di gennaio quindi il giorno della memoria per trattare anch'io questo argomento e voglio parlare però soprattutto delle rivolte che gli ebrei hanno fatto all'interno dei lager perché molto spesso ho sentito dire che gli ebrei in fin dei conti hanno fatto la fine che hanno fatto anche perché non si sono mai ribellati ma questo non è assolutamente vero in questo video ve lo farò presente ve lo dirò infatti la politica di oppressione nazista nonostante fosse così dura e rigida non ha impedito comunque lo sviluppo di forme di rivolta sia all'interno del reich sia all'interno dell'europa occupata e nonostante la politica oppressiva nazista si rivolgesse principalmente contro gli ebrei ma non solo perché nei lager ci sono finiti anche i sinti i rom gli oppositori politici gli omosessuali comunque nonostante questa ferocia fosse rivolta principalmente contro gli ebrei gli ebrei hanno comunque tentato delle forme di rivolta innanzitutto si sono organizzati principalmente in una rivolta armata all'interno di più di 100 ghetti dislocati in polonia e in unione sovietica quindi non solamente il ghetto di varsavia perché quando si parla di una rivolta del ghetto principalmente si parla di quella di varsavia ma anche ad esempio nei ghetti di Vilnius o di Bialystok poi i giovani ebrei si sono organizzati anche in gruppi partigiani sono uniti ai gruppi partigiani sovietici nei boschi oppure hanno creato ex novo delle cellule partigiane e poi in decine di campi di concentramento gli ebrei si sono uniti in gruppi clandestini per tentare di organizzare una fuga quando ormai avevano capito la fine del topo che avrebbero fatto nei lager e quindi non ci sono solamente quei sei o sette lager famigerati che vengono sempre nominati cioè e ce n'erano centinaia di campi di concentramento e io però prenderò in esame le rivolte che sono avvenute nei tre lager più famosi quelli di Treblinka, Sobibor e Auschwitz infatti il campo di concentramento di Treblinka insieme a quello di Sobibor e a quello di Belzec rientrava nella cosiddetta nel programma della cosiddetta action Reinhard cioè il nome in codice col quale i nazisti chiamavano il programma di sterminio di massa degli ebrei e hanno preso proprio il nome di Reinhard dal gerarca razzista Reinhard Heydrich che aveva e si era occupato del genocidio degli ebrei sopra tutti gli altri e venne poi ucciso nel 1942 dei partigiani ciecoslovacchi mentre si trovava a Praga quindi il suo onore danno il nome a questo programma di sterminio. Questi tre campi di concentramento infatti Belzec, Sobibor e Treblinka funzionavano con delle camere a gas fisse che venivano azionate dal monossido di carbonio che veniva scaricato dentro queste camere a gas ehm attraverso dei nei mezzi di trasporto blindati eh enormi quindi li accendevano e i tubi di scarico erano direttamente collegati alle camere a gas eh di questi campi e eh questi tre campi eh furono aperti a eh nella primavera del 42 e la loro attività cessò nell'autunno del 43 e lì dentro morirono un milione e settecento mila persone tra ebrei, rom e sinti. I campi di sterminio eh non sono la stessa cosa dei campi di concentramento. Spesso questi due termini vengono utilizzati come sinonimi ma in realtà non sono la stessa cosa perché eh i campi di concentramento sono dei campi eh concepiti come campi di prigionia e di lavoro forzato in cui occorre alloggiare e organizzare la vita di migliaia di detenuti quindi ci sono le baracche eh le mense bisogna poi dargli da mangiare anche se tutto ciò avviene eh in un clima assolutamente di morte eh è solo un allungare la vita eh di stenti però erano concepiti comunque per la sopravvivenza più o meno delle persone che erano alloggiate lì dentro che comunque lavoravano e quindi invece nei campi di sterminio erano campi pensati solo ed esclusivamente per la morte immediata delle persone che una volta arrivati a questi tre campi venivano subito spogliati dei loro averi e venivano indirizzati subito verso le camere a gas quindi non c'era la selezione che ad esempio veniva fatta ad Auschwitz che era un campo sia eh di concentramento sia di sterminio però ehm ad esempio il 20% delle persone eh che erano in un convoglio diretto ad Auschwitz si salvava dalla morte immediata perché serviva forza lavoro invece nei campi di sterminio no le persone venivano subito mandate a morire per asfissia nelle camere a gas venivano salvati solamente 600 ebrei perché perché servivano alle SS per gestire questa attività di morte nei campi di sterminio quindi serviva che si occupassero dei cadaveri degli dei loro compagni ebrei morti o dovevano smistare i vestiti e gli oggetti delle vittime o fare anche delle opere eh per l'SS come aggiustare le recinzioni cucire qualcosa per l'SS e far sparire anche i cadaveri finiti questi compiti anche questi 600 ebrei venivano uccisi nelle camere a gas e eh la prima grande rivolta scoppiò appunto nel campo di sterminio di Treblinka perché i prigionieri erano venuti a conoscenza della rivolta nel ghetto di Varsaglia e questo si vede che gli ha dato coraggio per tentare un'azione analoga quindi dai primi mesi del 1943 a Treblinka si era creato un gruppo clandestino di resistenza eh che eh in cui facevano parte eh un ex capitano dell'esercito polacco che era Julian Koradziki ed era formato poi anche da vari prigionieri con competenze militari come i cecoslovacchi Rudolf Masarek e Zelomir Bloch oltre che da alcuni civili come ad esempio la dottoressa Irene Levkovska scusate per la pronuncia i preparativi durarono mesi perché Koradziki si procura le armi è corrompendo eh le guardie ucraine che aiutavano le SS a tenere a bada i prigionieri eh e eh ottiene i soldi necessari per corrompere le guardie ucraine dai prigionieri incaricati di sottrarre indumenti e oggetti preziosi trovati tra le vittime ebree morte eh nelle camere a gas e e soprattutto eh degli ebrei che erano stati uccisi che provenivano dal ghetto di Varsavia. Le SS però riescono a scoprire che Koradziki ha molti soldi e quindi pensano che voglia progettare la fuga e eh così eh viene eh arrestato Koradziki dal comandante del campo che è Kurt Franz ma lui pur di non parlare si ehm prende una aveva nascosto la pasticca di veleno e quindi muore. Una prima rivolta era prevista per la primavera nel 1943 quando i prigionieri cominciano a notare un calo dell'arrivo degli ebrei e quindi pensano che di via poco il campo di Treblinka verrà smantellato però questa rivolta non viene mai fatta a causa del tifo. E eh in primavera le SS fanno poi costruire delle stanze per il proprio personale con accesso anche al deposito delle munizioni e chi puliva queste stanze chi erano i servi? Erano gli ebrei i quali in accordo con gli ebrei ehm che lavoravano nell'officina riescono a farsi fare un duplicato delle chiavi del deposito delle armi e quindi eh i servitori ebrei eh riescono a impossessarsi delle bombe ma quando scoprono che queste bombe non hanno il detonatore rimettono quindi le scatole al loro posto e non si sa in che modo poi sia abbiano siano riusciti a rubare i detonatori. Fatto sta che l'hanno fatto perché le bombe eh servivano proprio per dare l'addio eh l'addio sì l'avvio alla rivolta che eh doveva iniziare alle ore 16 che era l'orario in cui terminava il turno diciamo di eh lavoro. Quindi il 2 agosto del 1943 faceva molto caldo quel giorno e quindi eh 4 SS e 16 guardie ucraine vanno fuori dal campo per fare il bagno, per refrigerarsi. Ricordiamo che in un campo di sterminio c'erano poche eh SS circa una ventina e un centinaio di guardie ucraine. La rivolta quindi ha inizio. Il gruppo si in possessa delle armi leggere custodite in un deposito a piccafuoco a numerosi edifici. Centinaia di prigionieri quindi riescono ad assalire il cancello principale per forzarne l'apertura e la maggior parte degli insorti muore durante la rivolta ma 300 riescono a fuggire. Subito però da parte dei nazisti parte la caccia all'uomo e eh così più della metà dei fuggitivi vengono ricatturati e uccisi. In pochi si salvano solamente in 60 aiutati dai partigiani o anche dalla popolazione locale. Ed è grazie proprio alle testimonianze di questi 60 che si sono salvati che si è venuti a conoscenza delle brutture che avvenivano all'interno del campo di Treblinka. Tra di loro, tra questi sopravvissuti, c'è anche Wiernik che una volta arrivato a Versabia ha contattato un'associazione polacca che aiutava gli ebrei e ehm nel 1944 stampò duemila coppie del suo rapporto un anno a Treblinka che poi venne eh pubblicato eh a Londra e così anche all'estero si è venuti a conoscenza della rivolta che era avvenuta eh nel campo di Treblinka. Poco dopo la sommossa i gerarchi nazisti decidono lo smantellamento del campo, del lager e cercano anche di occultare le prove dei loro misfatti, anche se eh comunque le camere a gas in muratura eh sono integre, sono rimaste e lì dentro sono morti novecentomila ebrei. Poi abbiamo il campo di Sobibor e i detenuti del campo di Sobibor venuti a sapere della ribellione nel campo di Treblinka decidono anche loro di insorgere, quindi il sapere che altri tentavano la rivolta dava comunque forza a questi prigionieri. Quindi nell'estate del 1943 arrivano sempre meno ebrei e questo è il campanello d'allarme che scatta come anche nel campo di Treblinka perché vuol dire che presto il campo sarà smantellato, che non serve più. Tant'è che al campo di Sobibor arrivano i detenuti che erano nel campo di eh di eh di eh di eh di Belzec e quindi eh e questi raccontano storie incredibili. E eh una decina di prigionieri ebrei polacchi quindi decidono di eh formare questo gruppo di rivolta attorno alla figura di Leon Feldendler che era un ex membro del consiglio ebraico di Zolchievka, figlio di un rabbino e vogliono tentare la fuga insomma. Ma tentare la fuga è difficile in un ambiente del genere perché è un ambiente blindato e poi in Polonia la popolazione era molto eh ostile agli ebrei per la legge marziale che vigeva in Polonia. Cioè se un abitante polacco veniva scoperto a proteggere un ebreo tutta la sua famiglia sarebbe stata uccisa o per fucilazione o per in piccagine. Quindi eh spesso la gente aveva paura e non voleva aiutare gli ebrei. E eh c'era già stato poi un tentativo di fuga nel campo di Sobibor tramite ehm un tunnel sotterraneo che eh era stato scavato eh ma poi le SS avevano scoperto il piano, avevano trucidato ehm i potenziali fuggitivi. Gli ebrei polacchi poi avevano poca esperienza militare, non avevano armi ma nemmeno le sapevano usare e quindi a Feldender in particolare anche era aristio, era poco propenso all'utilizzo delle armi. Ma la speranza, la situazione cambia quando arriva un eh convoglio il 22 settembre di duemila ebrei di Minsk e all'interno di questo convoglio c'erano numerosi ex soldati dell'armata rossa e tra cui c'era anche proprio il luogo tenente dell'armata rossa che era Alexander Pecerski detto Sasha, il quale si era salvato dalla morte immediata di Sobibor perché aveva mentito, cioè alla domanda delle SS una volta arrivato lì se lui fosse, se qualcuno fosse in grado di svolgere i lavori di falegnameria lui aveva risposto di sì e quindi si era salvato. Ma la sua fama l'ha preceduto diciamo e quindi una volta saputo che Sasha si trovava nel campo Feldender decide di contattarlo e di chiedergli una mano, loro volevano fuggire e Sasha subito accetta perché capisce che lì ci sarà morte certa per loro e quindi in tre settimane riesce ad elaborare un piano, un piano di fuga. Questo progetto prevedeva di attirare alle 4 del pomeriggio, quindi quando finivano i turni di lavoro, le SS e le loro guardie ucraine in luoghi appartati per ucciderli senza farsi vedere dalle altre guardie. Bisognava impossessarsi delle loro pistole, accedere al deposito di armi e distribuire le armi ai ribelli. All'appello serale poi un segnale avrebbe dato inizio alla fuga sparando prima alle guardie, abbattendo poi la recinzione e fuggendo nei boschi per far perdere le loro tracce. Questo era il progetto. Ciò poteva essere possibile in un campo di Sterninio perché come ho detto prima c'era un numero molto basso di SS e di guardie perché non erano campi in cui la gente doveva sopravvivere e lavorare ma in cui la gente andava a morire. C'erano pochi prigionieri, quindi c'erano appunto una ventina di SS e un centinaio di guardie ucraine. Ma queste guardie ucraine non erano altro che dei prigionieri che avevano accettato di collaborare con i nazisti, quindi erano corruttibili. Il 14 ottobre del 1943 il gruppo clandestino decide di passare all'azione e viene scelto quel giorno perché mancano all'appello il comandante e due SS e quindi decidono che è il momento propizio. In meno di un'ora vengono uccise 11 SS ma la scoperta del cadavere di una di loro getta e fa partire l'armi nelle altre SS che quindi riescono a impedire che i prigionieri si impossessino delle armi del deposito. Quindi scoperti senza armi i prigionieri tentano in tutto e per tutto, quindi si precipitano verso le recinzioni, con delle tronchesi riescono a crearsi una via di fuga e calpestandosi gli uni sopra gli altri, quindi era scoppiato proprio il casino, si danno alla fuga. Circa 600 prigionieri riescono a scappare mentre 130 rifiutano di partecipare a questo tentativo di fuga perché troppo deboli, magari erano malati oppure pensavano che le SS avrebbero riconosciuto il fatto che loro non si erano uniti alla rivolta e che li avrebbero salvati. In realtà il giorno dopo sono stati tutti giustiziati questi 130 che non hanno voluto scappare o potuto scappare. Una parte quindi dei 600 fuggiaschi viene uccisa dalle SS mentre altri cadono sul terreno intorno a Sobibor che era stato minato perché all'insacuta di tutti gli SS quando hanno scoperto della rivolta che c'era stata a Treblinka hanno pensato che magari anche a Sobibor potesse accadere un fatto analogo e quindi avevano minato tutto il terreno attorno al campo per far sventare questo piano. Quindi 300 prigionieri su 600 riescono ad avviarsi verso i boschi ma 70 vengono poi uccisi nella fuga mentre 170 vengono catturati nei giorni seguenti o riconsegnati dalla popolazione locale che infatti aveva timore di aiutare gli ebrei. Molti altri morirono prima della fine della guerra e solamente in 42 di questi ribelli riescono a sopravvivere. Tra questi c'è anche Sasha che dopo la fuga si è unito a dei gruppi partigiani e ha continuato la sua lotta contro i nazisti. Ma dopo la rivolta Sobibor era così danneggiato che i nazisti hanno deciso di smantellarlo questo campo, di demolirlo per cercare anche di occultare le prove dei loro misfatti quindi la stessa reazione che hanno avuto quel campo di Treblinka. Hanno distrutto le camere a gas e i documenti del centro di sterminio. Hanno bruciato i corpi e hanno smosso la terra tutto intorno al campo di sterminio piantandovi anche degli alberi. Infatti oggi a Sobibor non c'è assolutamente nulla. Ci sono alberi, alberi e alberi. Sono riusciti bene nella loro opera di occultamento del campo di sterminio di Sobibor a differenza di quello di Treblinka in cui qualcosa è rimasto. E poi abbiamo il campo di Auschwitz-Birkenau che era il più grande campo di concentramento e di sterminio nazista in cui furono attivi molti gruppi clandestini e sono stati tentati varie rivolte all'interno di Auschwitz e molti atti di eroismo si sono conclusi anche con la fuga di un centinaio di prigionieri ma ciò non è accaduto il 14 ottobre del 1944. A settembre infatti del 44 erano stati uccisi 200 uomini e quindi si era preoccupazione che una nuova uccisione potesse avvenire a breve. Quindi un gruppo di donne ebree che lavoravano in una fabbrica di munizioni vicine al campo di Auschwitz-Birkenau sono riusciti a far avere, a portare dentro il campo e quindi a dare agli uomini del Sonderkommando, cioè ebrei costretti a rimuovere i corpi dalle camere a gas e a incenerirne i resti, hanno passato a questi uomini dell'esplosivo col quale poi verranno preparate delle granate. Anche qua gli uomini del Sonderkommando sono stati giudicati per tanto tempo come dei traditori perché si prestavano all'attività dei nazisti e venivano giudicati malamente dai prigionieri che non sapevano probabilmente che anche loro erano costretti a fare il lavoro che facevano. Anche Primo Levi li chiamerà i corvi neri ad esempio. E queste donne che fanno avere l'esplosivo agli uomini del Sonderkommando perché la rivolta di Auschwitz-Birkenau parte proprio dagli uomini del Sonderkommando. Queste donne, dicevo, sono Rosa Robota, la quale è nata nel 1921 e rientrata in clandestinità dopo l'invasione tedesca ed era stata deportata nel 1942. Poiché nel campo c'erano anche altri suoi compagni della Resistenza, Rosa divenne un punto di riferimento nell'organizzazione della Resistenza all'interno del campo. Abbiamo poi Hala Gertner che aveva 33 anni, aveva studiato al ginnasio e prima di Auschwitz aveva lavorato in un campo di lavoro a Gepersdorf e poi si era sposata nel ghetto di Sosnovic. Poi abbiamo Regina Zafirstein, nata nel 1915, era un'imprenditrice e suo padre morì nel ghetto, dopo il trasferimento nel ghetto, insieme ai fratelli, alle sorelle e ai nipoti fu deportata dopo la liquidazione nel ghetto. Poi abbiamo le sorelle Estusia e Anca Weikblum che erano nate a Varsavia, avevano 17 e 18 anni, dal ghetto erano state deportate prima nel campo di concentramento di Maidanek dove entrambi i genitori erano morti e poi sono state deportate ad Auschwitz. Quindi a mezzogiorno del 7 di ottobre, mentre nel crematorio 4 si teneva una riunione per stabilire i termini della rivolta, entrò un detenuto tedesco che minacciò di denunciare il loro progetto alle SS e venne ucciso sul colpo. Tuttavia le SS erano già a conoscenza di qualcosa perché in poco tempo si recarono al crematorio 4 accerchiandolo e allora gli uomini dal son del commando sono partiti con pietre e bastoni e hanno appiccato fuoco sia a una struttura utilizzata per le uccisioni a gas sia al crematorio 4 al quale erano addetti. Infatti Auschwitz-Birkenau era grandissimo come campo e c'erano questi quattro crematori di cui due si trovavano praticamente a Birkenau e gli altri due ad Auschwitz, cioè era enorme. La sommossa del crematorio 4 accese una sollevazione anche al crematorio 2 che fece finire il loro capò in un forno e portò alla fuga di molti prigionieri attraverso una recensione di Velta con delle tronchesi. Ma i nazisti, come al solito, anche se all'inizio sono presi alla sprovvista, sono molto meglio equipaggiati dai prigionieri ebrei sfiniti e quindi riescono quasi sempre ad avere la meglio sulla rivolta. Infatti il gruppo di 250 detenuti che riesce a fuggire e a raggiungere il villaggio di Raisko fu ucciso in un granaglio dato a fuoco dalle SS che erano sulle loro tracce. Altri 200 uomini furono poi fucilati e nel corso del 1944 un centinaio di superstiti fu fucilato in un bosco vicino a Birkenau. E dopo essere state torturate per mesi, nel gennaio del 1945, a due a due, le donne che avevano aiutato a portare gli esplosivi all'interno del campo sono state impiccate, come ricorda Liliana Segre che all'epoca aveva 14 anni. Il 5 marzo del 1945, quindi un mese dopo la liberazione del campo ad opera dei russi, viene rinvenuta la testimonianza di Gradovski, che era un ebreo del Sonderkommando che partecipò alla rivolta, durante la quale molto probabilmente fu ucciso. La testimonianza riviene nei pressi del crematorio 3 di Birkenau all'interno di una borraccia tedesca ed era formata da un pacquino di 91 pagine. Sono state trovate altre 6 testimonianze nascoste dentro il terreno dei vari crematori di Auschwitz-Birkenau e quella di Auschwitz fu l'unica grande rivolta all'interno dei campi di sterminio. Il mio video termina qua. Se voi avete altre notizie scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!